Tutti quanti stelle fatti perché insomma si sta male a sentire una cosa. Da quando abito io qua in 32 anni, un bambino, un coso così, no, mai successo. Una persona che andava a funghi, un altro per prendere il cane, ma un bambino piccolo così scappato dalla comunità e appunto, no, è la prima volta. Non ci sono parole per descrivere come ci si sente all'indomani della tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Non si riesce a credere che un bimbo di 4 anni abbia perso la vita annegando nel canale scolmatore che taglia il bosco dell'Osellino a Mestre. Siamo sconvolti perché l'esito tragico è quanto di più duro poteva capitare in una comunità che da sempre, per così dire, ha aperto gli spazi di casa. Non siamo sottermine, ecco, ha questa realtà molto particolare. Di fronte a tanto dolore l'unica cosa che si può fare oggi è rimanere in silenzio, commenta il primo cittadino. Possiamo soltanto in questo momento qua inginocchiarci al signore e dire che gli dia tutto quello che non è riuscito ad avere in questa vita. Un bambino di 4 anni, non ci sono parole, è scappato, sono situazioni momentane, può capitare. Succede qualche volta che i genitori si dimendano con le macchine bambini, è successo, sono cose drammatiche. Non mi sento di dire altro per l'episodio, non lo conosco. Un bambino che vaga a 4 anni così e poi finisce in questo modo, profondo dolore. La cosa triste è che è morto un bambino di 4 anni. Insomma, io mi concentrerei su questo e mi farei qualche interrogativo su come riusciamo ad essere ancora più vicini a questi bambini. Ma per Don Bonazza, che in mattinata durante una messa ha raccolto i bambini per spiegare loro cos'era accaduto, da domani bisogna intervenire per evitare che succedano altre tragedie come questa. Dobbiamo aspettare altri morti per creare una situazione di sicurezza. Tra l'altro in quel tratto questo canale costeggia l'intero quartiere da un lato, quindi è molto vicino alla zona abitata e quindi il rischio è ancora più alto. Io penso che invece di fare grandi piani anche su altri canali che vanno verso la laguna, penso che so qui al canale Salso, c'è tutti piani molto belli sulla carta e grandi vestimenti, vorrebbe fare lavori che sono forse meno eclatanti mediaticamente, ma che sono essenziali per la sicurezza di tutti, quindi dal bambino all'anziano, tant'è che dentro a quel canale lì sono già morti bambini, giovani e anziani. Ne contiamo 4 con quest'ultimo bambino.